Sono otto i mesi di rialzo, i mesi di trend rialzista di Bitcoin da novembre 2022, eppure tutto è passato quasi in sottofondo, come un sottofondo musicale, una trama di un film. Questa fase di Bitcoin, una fase di breve periodo, ma anche una fase di ripresa dopo un bear market cattivello, che è stato quello del 2021, è passato in secondo piano, meno hype rispetto agli altri anni, meno attenzione al mondo delle crypto, quasi un po' una nuvola soffusa che si è messa al di sopra di questo mercato, come se tutto quello che avevamo immaginato negli anni precedenti non esistesse più. Ma è davvero così ragazzi, oppure sono proprio quelle le fasi in cui bisogna stare più attenti, in cui bisogna fare più attenzione, in cui bisogna investire di più in termini di tempo, di attenzione nella formazione, nello studio e in tutto quello che serve poi per quello che verrà. Per non arrivare troppo tardi ne parliamo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video un po' diverso dal solito rispetto al lunedì. Facciamo un'idea generale ragazzi di quello che è questa fase, andiamo ad analizzare questi momenti, questa settimana vorrei dedicarla appunto all'analisi di lungo periodo, non a quelle short term, però poi alla fine del video vi do comunque un briefing su quella che è la situazione attuale dei grafici per la settimana in questione, settimana che ritengo anche estremamente complessa. Però andiamo per gradi ragazzi. Allora, la questione inerente al bitcoin, 8 mesi di trend rialzista, 8 mesi che quasi nessuno si è filato, tra virgolette, perché? Perché il mondo delle cripto è ancorato a diversi concetti ragazzi, di cui uno è sostanzialmente molto complesso da gestire ed è anche estremamente opinabile, cioè il concetto del famoso holding ad oltranza nei mercati delle criptovalute che seppur da un punto di vista tecnico, filosofico, è molto bello, molto auspicabile, lo sapete che anche una parte dei miei bitcoin restano sempre in holdo di quelli che ho minato anni, 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 anni fa e quindi magari quelli non li voglio vendere, però da un punto di vista invece di attenzione, di ragionamento, di maturità del mercato, quel tipo di ragionamento non è invece un ragionamento positivo. Perché? Perché cosa succede? Durante le fasi dei bear market, molti degli investitori che non sono preparati, che non hanno la formazione, ragazzi e badate bene che non esiste la differenza tra investitore e trader nella parte formazione, bensì esiste solo una scelta, una differenza in base al time frame, all'orizzonte temporale che voi andate a decidere di utilizzare secondo le vostre strategie, ma la base della formazione resta uguale. Quindi nel momento in cui non si ha la formazione per il trading, non la si ha neanche per fare l'investitore, ragazzi, ed è questa cosa è molto difficile poi di gestire durante i bear market. Infatti, io parlando anche l'altra volta con alcuni amici, molti di loro sono rimasti ancorati a questa fase discendente e un po' delusi da questa fase discendente perché grandi aspettative, scammoni giganteschi che nascono nel settore delle crypto, soprattutto nel bull run, hanno un po' bruciato quelle che sono la parte emotiva e quindi il capitale psicologico degli investitori l'hanno bruciato e a quel punto si rimane col cerino in mano nell'attesa di una forte... di una... che qualcosa accada in preda però a una forte delusione, ragazzi. E quello è il problema, l'errore del famoso holding. Cioè nel momento in cui io vado a decidere di intraprendere quel tipo di strategia, devo anche, diciamo, subire quelli che sono gli effetti di quella strategia stessa e nel momento in cui le cose vanno veramente male, molti investitori si allontanano dal mercato ed è quello che è successo al settore delle crypto perché non c'è maturità in questo settore, non c'è l'esperienza e non c'è neanche la formazione adeguata per vincere su questo settore, ragazzi, che è poi essenzialmente quello che farà la differenza nel lungo periodo perché nel lungo periodo, ragazzi, quei hype, quei pump non possono durare per sempre, non possono esserci ogni singola crypto o ogni singolo asset o per ogni anno che accade. Quello che farà la differenza, la chiave di volta, sarà la vostra preparazione rispetto al mercato, cioè l'essere stati in grado di mantenere i profitti che avevate avuto magari nel 2021 in questa zona qui di grande pump, essere stati in grado di mantenerne una parte perché mantenerli tutti è anche quello, un'utopia, è possibile, non bisogna ragionare così, mantenerne una parte però è giusto, corretto e si può fare con regole strategiche e statistiche alla mano e anche probabilità alla mano. Allora, la capacità di mantenere i vostri profitti in queste zone di struttura di ribasso e la capacità di saper salire sul carro quando sono tutti delusi come in questa fase farà la differenza nel lungo periodo, ragazzi. Nel lungo periodo sono tutti gli investimenti, 10, 15, 20 anni a volte, a prescindere dall'hype del momento, a prescindere dal settore e da tutto il resto. In questo momento c'è il hype sull'AI. La stessa cosa come abbiamo visto in diversi settori, il credito capiterà anche in quel settore, andrà nel famoso abisso, no? Come si diceva nelle rivoluzioni tecnologiche e poi deve superare quell'abisso per prender piede. Allora, ragazzi, Bitcoin ha fatto 8 mesi di rialzo, 8 mesi consistenti perché comunque siamo ancora in una struttura di politica restrittiva da parte delle banche centrali della Fed con una guerra in corso e in questa fase di rialzo ha dei tassi di interesse che continuano ad essere attesi ancora al rialzo per il prossimo PONC, ragazzi. Nonostante questo, il Bitcoin è riuscito comunque a restare in una zona di rialzo che è vero, non è impulsivo perché molti di voi mi hanno detto diciamo, ma però non è come il precedente, cioè quello dell'anno 2018-19. quindi la fine del bear market 2018 e inizio del 2018. Non è impulsivo in questo, però, ragazzi, probabilmente è stato questo un'anomalia perché i precedenti livelli di ripresa da un periodo di bear market e non erano per niente così belli. Guardate qui che cosa ha combinato nella struttura del 2015-2014 quando in pratica per riprendersi e riprendere in pratica solo una candela mensile che era quella del gennaio 2015 Bitcoin ci ha messo praticamente quasi 9 mesi, 10 mesi, cioè un anno solo per recuperare l'ultima candela. Se noi andiamo a vedere invece questa struttura qui, cioè la candela importante, vedete, insomma, la recuperata è alla seconda mensilità è pur vero che la candela di giugno, quella del famoso crash di luna, eccetera, non è stata ancora del tutto recuperata, infatti solo in questo momento ci siamo avvicinati a quella fase strutturale, ma guardate qui, ragazzi, cioè non è che il mercato dovesse fare una B, il cosiddetto rimbalzo a B. Quindi questa struttura di trend al momento non ha superato dei livelli di resistenza importantissimi, però è un super trend molto bello, fatto molto bene, quindi se resiste, ragazzi, questo è un bellissimo trend perché è avvenuto in maniera silenziosa, tra le altre cose, guardate, vi metto il grafico a close, ora vi dovrete dire questo trend qui come pulito, lineare, senza grandi volatilità, preciso, puntuale. Allora, un trend di questo tipo ancora vi ripeto non ha superato alcuni livelli, ora vi dico il livello che è chiave, proprio sblocca e fa diventare questo livello di rimbalzo, non più un rimbalzo ma un trend corposo che ha la potenzialità nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di poter andare a fare bene anche, ragazzi, su questi mercati dopo la chiusura di questo annuale, perché poi c'è anche il concetto che molti di voi hanno tanta fretta nelle cose, ragazzi, il presupposto di essere sul mercato sono legati anche ai tempi del mercato, ma durante queste fasi sembra riposo, il riposo del toro in realtà, ragazzi, bisogna studiare in queste fasi, bisogna ragionare andando a formarsi, perché la formazione vi darà la limpa per cavalcare la prossima burrana, quello è fondamentale, ed è questo il vero significato dei bear market e delle fasi di riposo, dove tutti raccolgono i remi in barca, progettano nuove cose e creano nuovi progetti, e cosa deve fare un investitore in queste fasi? Per accogliere i remi in barca, approfondire quello che è successo nella situazione, studiare nuove tecniche, studiare libri, fare i corsi, eccetera, e prepararsi a quello che potrebbe avvenire, perché poi, quando avviene, siete assolutamente fuori dai giochi se non siete già pronti, ragazzi, non si può mettere una pezza, non si può entrare in tomo su un trend già partito, dovete ragionare prima, dovete essere in grado di superare la fase, no, di un po', diciamo, disillusione, senso che, ragazzi, comunque, otto mesi di trend riazista Bitcoin li ha fatti, è andato a riprendersi un livello di supporto importantissimo, questo livello di supporto è proprio il livello chiave perché ragazzi, al di là di questo livello di, scusate, resistenza, non supporto, ho fatto una gaffa, a questo livello di resistenza Bitcoin cambia il concetto che è legato a questo trend, allora, questo trend seppur creato in una totale disillusione del mercato delle cripto, forse per, appunto, gli scam e l'impreparazione tecnica di molti investitori come vi stavo dicendo, rappresenta comunque un baluardo di speranza detto alla Star Wars se no, quindi insomma l'ultima, l'ultima speranza, la nuova speranza, allora, questa struttura qui deve superare questo livello, non è a caso ragazzi che da 4 mesi, 4 mesi, 5, perché questo è ancora in corso, quindi 1, 2, 3, 4, più questo in corso, che è il quinto mese, Bitcoin è al di sotto dei 30, circa 29, 30 mila dollari, perché questo livello qui, perché è il livello spartiacque tra sono un rimbalzo di questo trend e entro qui dentro sono un nuovo trend, quindi la differenza è proprio l'arrivo in questa zona, 35, 38, perché se Bitcoin supera questo scoglio e lo rende non più una resistenza ma poi un supporto e per farlo, questo è un grafico mensile ragazzi, quindi è molto lungo perché stiamo ragionando in termini di lunghezza, per farlo deve raggiungere metà di questa struttura, cioè deve mangiarsi l'intera candela di giugno famosa e deve riprendersi la candela di maggio 2022, perché deve arrivare in questa zona che sono i 40 mila, 38, 40 mila qui e poi allora si può bloccare, a quel punto avrà definito questo livello, non più un livello di resistenza ma un livello di supporto e avrà definito questo trend un nuovo trend che ha le potenzialità di fare nuovi massimi con estrema tranquillità, non vuol dire che li farà ma vuol dire che la probabilità è assolutamente normale che poi vada a disegnare nuovi massimi, fin tanto però che non arriva a quel livello che vi ho detto c'è ancora il grande rischio che questa fase rialzista sia solo un rimbalzo e li casca l'asino come si suol dire diciamo una volta negli antichi tempi perché ragazzi perché questa zona è ancora una zona di buy molti continuano a dire adesso è salito troppo ci sono quelli che rincorrono sempre le mode allora il mercato scende e adesso non compro perché sta scendendo e deve scendere di più poi il mercato inizia a rimbalzare ah non compro perché era sceso adesso è troppo alto aspetto che scende non scende mai allora ragazzi questi bias cognitivi che sono dovuti alla mancanza ancora una volta di formazione nell'ambito della psicologia del trading e del mindset del trading ribadisco trading e investimenti di base su queste cose sono la stessa cosa ragazzi poi ci sono altre scelte da fare ma non nel mindset e nella psicologia cioè quello è un bias che avete ragazzi il mercato fa quello che gli pare voi dovete seguirlo come un segugio capito che segue il trend non potete né prendere un minimo né vendere a un massimo lasciate stare queste barzellette se vi capiterà una volta gioite anzi io a volte scherzosamente ma non è una cosa che faccio a caso se mi capita di comprare un minimo per fortuna cerco di sbagliare un'operazione per riequilibrarmi perché non è possibile ragazzi a volte se no il cervello ci fa brutti scherzi se poi andiamo a cercare quella stessa sensazione invece no subito devo bloccare il mio lato emotivo e dire guarda che è stata solo fortuna perché è così che si avviene noi possiamo stare vicino a quei parametri lì come siamo stati veramente molto bravi anche lo scorso anno a prendere il target di massimo ma eravamo vicini non bisogna essere oriented nel cercare di prendere quei livelli come obiettivo voi dovete prepararvi in questa fase prima perché questi sono prezzi accettabili ancora e sono prezzi che possono tranquillamente essere acquistati perché se questo livello va a breccare e si sale qui questi prezzi qui non li rivediamo più a meno di un cambio trend definitivo e a quel punto di lungo periodo di bitcoin quindi lì poi si esce stop e basta perché il mercato sta crashando definitivamente oppure le cose sono andate tutte e storte successe qualcosa di grave e bababà allora lì è proprio un altro gioco un'altra partita un'altra gara ma non è quello che dobbiamo fare quindi non vi fate prendere dall'idea il prezzo è alto il prezzo è basso guardate la struttura dei trend perché la struttura dei trend insegna tantissimo ragazzi 8 mesi di rialzi siamo a contatto da 5 mesi con il livello di resistenza più importante che sancisce il passaggio di questa fase ad una nuova struttura ovviamente il mercato non ha fatto un hype così ma è meglio non è peggio perché questo era eccessivo e poi abbiamo visto mesi e mesi di ribasso per ritracciare quella che era stata probabilmente un hype troppo esagerato di bitcoin meglio un trend più lineare così che mi chiude un anno intorno a questi livelli senza grandi problemi e poi ci riprova gli anni dopo ragazzi perché alla fine la pazienza è la vera virtù degli investitori e vi ripeto questo tempo che il mercato ci sta regalando è importantissimo per formarsi abbattete la disillusione lasciatela a casa perché siamo nella fase di disillusione del ciclo dell'investitore nel prossimo video guardiamo anche il ciclo dell'investitore e mettiamo questi concetti dentro il ciclo dell'investitore e vi faccio vedere dove siamo perfettamente e precisamente nel ciclo dell'investitore anzi vi faccio un gioco qualcuno di voi mi scriva secondo lui dove siamo nel ciclo dell'investitore poi nel prossimo video andiamo a svelare questa risposta e potete vincere nulla perché non riesco a spedirlo peraltro che vi dosso ragazzi dei tetare non lo siamo dei luna li vado a prendere vabbè allora detto questo quindi vi raccomando ragazzi guardate i dati per quello che sono 8 mesi di rialzo 5 mesi nel tentativo di distruggere questo livello andiamo al breve periodo perché vi avevo promesso un piccolo tocchetto nel breve periodo solito con quello che facciamo allora analisi ciclica per questa settimana la struttura di questa settimana è delicata perché questo livello di minimo che è avvenuto il 7 luglio ha indicato che sostanzialmente qui è iniziato un nuovo ciclo settimanale della durata appunto di 7-8 giorni circa in media che in teoria ha questo andamento quindi questa sarebbe una settimana che teoricamente porterebbe bitcoin alla chiusura del ciclo mensile o comunque non dovrebbe essere esplosiva se questa settimana non ha questo atteggiamento ma fa una barra di congestione si rimanda alla close del mensile di un'altra settimana quindi allunghiamo in pratica tutto il concetto perché se fa una cosa del genere e non fa niente di che poi dobbiamo attendere un'altra settimana per vedere questo tipo di atteggiamento in pratica si allunga a 37 giorni il ciclo mensile quindi questa fase è in pratica una fase di debolezza perché siamo nella fase della chiusura del ciclo mensile però come vi ho detto nel video di venerdì non avendo un atteggiamento pronunciato a ribasso bitcoin potrebbe essere potrebbe far bene perché ragazzi alla fine la chiusura di questi cicli può avvenire anche in barra di congestione semplicemente perdendo il tempo sufficiente al mercato di rimettersi in forza oppure attendere magari una news che può essere interessante importante o quel che sia quindi questa cosa qui è una fase estremamente rilevante ed è anche molto bella attendere più sta in barra meglio è ve lo dico in maniera molto chiara più sta in barra meglio è perché andiamo a far scadere il tempo senza fare nuovi minimi e questo è assolutamente molto rilevante solo ed esclusivamente un riposizionamento di bitcoin intorno ai 31 con un nuovo test elimina questa ipotesi che vi sto dicendo e indica che qui a 22 giorni è iniziato un nuovo mensile corto già direttamente e quindi a quel punto saremo in un bimensile da circa 60-70 giorni il classico alla bitcoin oserei dire però in forma ternaria e quindi sviluppato in questo modo solo un riavvicinamento in questa zona quindi questa è la seconda ipotesi gli do meno probabilità intorno al 40-45% la prima ipotesi che qui invece siamo in una struttura che andrà a cercare il famoso minimo di metà di questo ciclo da 70-80 giorni e diciamo la più probabile io qui gli do un 60-55% di probabilità in questa su questa diciamo ipotesi detto questo quindi nel breve in questa settimana io starei molto attento per alcune operazioni ovviamente anche in questo caso come sempre io seguo quelle che sono le mie macchine quindi se volessi fare anche un long ma è lì è trading quindi non è un'operazione di lungo periodo chiuderebbe comunque in qualche giorno si potrebbe anche optare però al mio punto di vista in questo momento preferisco stare rilassato alla finestra e attendere le motte del mercato ma vi ribadisco 8 mesi di rialzo nel prossimo video parliamo anche di altre cose vi faccio vedere un altro grafico che è un grafico di lungo lungo periodo per bitcoin estremamente rilevante che vi darà anche l'idea di come in questo momento è il più importante per gli anni futuri perché è in queste fasi in questi momenti che si costruisce tutto quello che poi sarà gli anni futuri e se il mercato ci dà un regalo noi siamo pronti a prenderlo solo se qui siamo preparati ne parliamo nel prossimo video buon inizio settimana a tutti e ciao